Mola madonna ma che spettacolo, è proprio veramente uno spettacolo, così è veramente una roba spettacolare. Max Allegri incarta terribilmente il comandante 2-0, avrei preferito il cortomugio, dico l'avrei proprio per simboleggiare il passato e il presente della Juventus, quello 0-1 che però sia Cataldi che Reina l'han decisa di buttare in cacciara e voglio dire va bene così, chi sono io per dir di no e adesso voglio vedere anche che cosa dirà Mancini quando si presenterà un rigore a favore dell'Italia che oggi Bonucci entrambi li ha battuti anche con una certa tranquillità, con una certa precisione, con una certa bravura e sono molto curioso di vedere che cosa accadrà quando ci sarà un altro rigore ma onestamente al momento dell'Italia chi se ne frega, l'importante era vincere, vuoi perché purtroppo la classifica parla chiaro, vuoi perché purtroppo, no, vuoi perché per fortuna ci saranno comunque due scontri diretti, Fiorentina-Milan e Inter-Napoli dove comunque tu a prescindere da qualcuna che lì sopra dei punti li guadagnerai, tre, due, chi lo sa, magari anche su tutte e quattro speriamo, un bel doppio pareggio, due punti su tutte sarebbe un capolavoro ed era fondamentale vincere, quello senza ombra di dubbio e sai, comunque quando vai a Roma l'Inter per esempio ci ha perso, magari vuoi perché tutto era nato da una situazione particolare, l'Inter ha perso poi la testa e non è riuscita più a gestire la partita, però oh, la squadra vincitrice dello Scudetto a Roma aveva vinto, aveva perso, non aveva vinto, aveva perso, quindi te comunque ti ripresenti dopo la sosta, tanto per cambiare, senza Dybala, che cosa succede? Chi lo sa, succede che arriva Max Allegri, tac, e vinci 2-0, per fortuna, per fortuna, fino all'ultimo ci siamo cagati addosso, fino a che Reina non ha deciso di ammazzare Federico Chiesa, ma va bene così, comunque l'importante è averla portata a casa e sono curioso, sono veramente molto curioso di vedere che cosa si dirà sui due rigori dati oggi, il primo Cataldi fa una puttanata colossale, entrando inscivolati in area di rigore, poi voglio dire, se speri nello stop preciso di Morata c'è proprio una falla a te nel sistema, se in più poi, dopo che l'arbitro ha deciso di non andare a vedere un... cioè, no, riformulo, dopo che l'arbitro non aveva dato un calcio di rigore solare anche dal vivo e andato a rivederlo, tu in cuor tuo sai benissimo che cosa hai fatto, ti dà rigore contro e ti lamenti in quel modo vuol dire veramente che se ti toccano il naso parte per forza di cose il popi popi, è inevitabile che non sia così, poi ad ogni cosa Cataldi arrivava l'anima, protestava, si lamentava, tutto partito da quell'episodio lì dove voglio dire, adesso con tutto il bene del mondo io posso capire l'adrenalina, l'euforia del momento, in quell'istante posso capire che ti lamenti, ma in quell'attimo lì, non per tutta la partita, protestando sempre di continuo un bidone biblico che ha fatto carriera su un gol, me lo ricordo bene, purtroppo, perché tanto a chi l'avrà mai fatto il bidone biblico il gol, quella squadra lì è normale, è quello oggettivo, però veramente da arrivare all'anima un po' va bene, ma anche meno, poi la cosa bella è che sempre mi si parla di quadrado, di quadrado simulatore, che io lo capisco e alle volte lo riconosco anche, quando soprattutto poi può evitare una certa è stucchevole quello, senza ombra di dubbio, però nel senso, se mi si vuole sempre parlare di quadrado, a me va benissimo, ma anche oggi di tuffatori lì in maglia celeste ce ne sono stati anche parecchi, qualche volta fischiavano, qualche volta fortunatamente Di Bello ha lasciato correre, però in linea di massima, Lazzer è un altro che ogni 2x3 il saltellino lo faceva, però è giusto ribadire che è sempre solo quadrado, io questo lo riconosco, è sempre solo quadrado, tutti gli altri sono casti puri che cascano solamente quando il fallo lo prendono realmente, cosa che di solito succede anche a chiesa, però purtroppo oggi c'è poco da dire, Reina ha deciso veramente di fare un'entrata della Madonna e lì Reina deve anche ringraziare che è cambiata la regola del cartellino rosso al portiere che praticamente non si dà più perché chiesa con la porta davanti a sé senza portiere, un fallo da dietro con una certa vemenza e grazia del Signore il fatto che Reina sia stato solamente ammonito, ma giustamente è la regola e va benissimo così, tanto la battuta, c'è Bonucci e tanti saluti e io mi sento di fare anche complimenti a Pellegrini, io una partita del genere da Pellegrini non me la sarei aspettata perché tutte le altre volte che l'ho visto dal vivo o semplicemente in televisione non mi ha mai dato la dimostrazione di essere uno particolarmente affidabile, mentre invece oggi contro avversari ostici come Lazzari, come Felipe Anderson, poi non mi ricordo anche chi c'era quando ho fatto i cambi, però comunque ha fatto una partita decorosissima, cioè non ha fatto nessuna sbavatura, a parte una volta nel primo tempo dove ha ciccato il pallone, ha preso in pieno Felipe Anderson, se non sbaglio, ma oh, lì ogni tanto ci può stare, non è che puoi pretendere sempre tutto, ogni tanto ci può stare, prendere anche l'avversario, fare un errore qua là, ma in linea di massima considerando gli avversari abbastanza ostici, penso abbia fatto un'ottima partita, soprattutto quando si è rotto i maroni nei confronti di Lazzari, che tanto per cambiare, saltellino alla quadrado, alla quadrado, sottolineiamolo sempre per carità, e per il resto nulla, cioè davvero, io dico la verità, una vittoria, io nel dubbio non me l'aspetto mai, con sta Juventus anche se è vero, probabilmente è peggio la Salernitana che la Lazio, il Milan, l'Inter, tutte queste squadre qui per la Juve di quest'anno, però sai, quando vai a Roma non sai mai che cosa aspettarti, perché la Lazio a parte tutto è sempre una squadra abbastanza difficile da affrontare, quest'anno poi con Sarri anche, che sta cercando di far valere il suo gioco, fortunatamente oggi non ce l'ha fatta, vuoi, perché comunque mancava, è uno come immobile, ed è sempre giusto dirlo, capocannoniere attuale del campionato, scarpadoro la scorsa stagione, quindi quello per carità di Dio, noi non avevamo Paolino Di Bala, i rigori li ha battuti Leonardo Bonucci e tanti saluti, io sono felice così, soprattutto per domani, già mi sfrego le mani all'idea di domani, di che cosa si tirerà fuori domani e avrebbe dell'incredibile, ma sicuramente ce l'avrà vedendo i due episodi in questione, per il resto nulla, al momento veramente questa giornata non poteva andare meglio di così, ma probabilmente a prescindere vedendo i due scontri diretti che ci saranno tra dopo e domani, a qualcuno i punti li recupererai, cosa che poi più di tanto malvagia non è, vedendo la situazione attuale della Juventus, io oltre questo non posso dire veramente nulla, ho vinto senza prendere gol, in una partita ostica con due calci di rigore, quello mi fa abbastanza godere, mi evito tutta la polemica che avrebbero fatto i tifosi juventini sempre per la diatriba, sari e allegri, recupererò punti da quelle che sono sopra, più di così che cazzo voglio, mi toccherà fare notte per fare il video di domani, va bene, ma io a questo sono assolutamente disposto se si parla di serate del genere, sicuramente meglio delle notti insonne che mi fa passare la Juventus dopo un pareggio, una sconfitta, robe del genere, ci siamo intesi probabilmente. Detto questo ragazzuoli, un bel mi piace, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, ci vediamo domani, vi voglio carichi e tanto per cambiare fino alla fine. Forza Juve!